Ciao a tutti ragazzi, oggi è il prossimo episodio di Warframe, vedremo il terzo episodio del vetraio. Dopo tutto questo tempo, e ancora passando giudizio, abbiamo un'altra vittima, cristallizzata in exilio. Questo sembra diverso, non posso mettere la mia mano su perché. Andiamo ora, determina il suo patente, sbagliate le lecce e torniamo a tornare a Nihil. Non lo troviamo, e non lo trovo a prendere in qualsiasi bottiglia che veniva. Oh ragazzi, quindi andiamo, per così ragazzi, per trovare indizi in quello che siamo su grano. Sì ragazzi, questa è la, in teoria ragazzi, di base ragazzi, dove noi ci mettiamo ogni volta a uscire dalle missioni. Comunque, per esempio, adesso non usciamo qua. Ragazzi, perché, se vede che questo avversi altro, non si sa. Esaligniamo ragazzi il cadavere. Il cadavere, grazie, ragazzi, è fatto un po' di pressione. Che è, ragazzi, prima il corpo. In questo caso, si sembra che sia parla un qualcuno, eh. Questa dice lunga. Abbandonato Grineer Watch Post. Non ha molto traffico, queste parti. L'ho guardato, però. L'ho guardato a casa. Probabilmente tutto che lo conosce. Un po' di pazienza. Come si era pronto perla. Non ha portato una combina. Sì, questo avversi lo si può vedere. Questi ragazzi vediamo il pupazzo. È un bello sciamato e usato. Un po' di Grineer. Oppure ha un significato più profondo. Più triste. Probabile. Ed è un po' diighi. Il uomo? All'estrella un'acoplata? Alla che schiume trovava. Ilто intorno, sicureamente. Viponi? restricted, armone? Pochi e telehealth? Ma una facoltata pmlta? Luf, se non lo sapevo meglio, pensavo che si sentiva qualcosa, amico, risulta, non avrebbe stato tolerato. Un pochissima portata, i deboli sistemi di cifrature rendono le posizioni di moto banali. Ah, mi sembra un terreno giocattolo. Eh, questo è peculiare, una pistola. Lickleck, lickleck, un'arma pesante, pistola a grineer, ok, progettata a grineer che spara due colpi in rapida successione con una scuola, pressione di griletto, ok, tiratori esperti, prezzano la precisione di questa arma micidiale. Io comunque assiderebbe che non chiede a queste cose, se fossi in ora, ma dopo a noi gli interessa. Bene. Se il fatto di non poter correre, mi causo problemi. Tutto il principio mi metterà si fa... uh, cos'è questo? Un data pad. Settimentati, ok. Granato, grand, grand, grand sangue, piccoli numati si nascondono, grand grand trova, grand uccide, piccoli, ora grand e piccoli, niente più trova. Quindi questa notizia si chiamava grand, ral, provatemi. Io non ricordo, secondo me, ogni grineer, diciamo così, parlo solamente traditore, parlo di essere interessa persona. E mi riferisco a klem. E mi riferisco a klem. Klem? 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 Krakato? Quanto bello klem. No, non vedo niente altro. Oh, invece sì, c'è qualcosa se qua giù da... da toccare. Un altro tap pad. Filosofia di Stem e Ion. Sulla forza c'è... Crescire tale, ok. Persino questa. Ah, persino quando... Uno avvolto, pigavamo, ci pigavamo, venti, passato, ci spezzavamo. Eh. Quindi è industriale. E' tutto, credo. Hmm. L'energia. Bene, ragazzi, vi direi, quindi, di fare un mini recap, ragazzi, della nostra situazione. Dopodiché, della mia situazione. Ora, semplicemente, l'indizio sarà la figura che abbiamo qui da vedere. In questo caso è il Stem e Rhythm. Mentre l'immorto c'è lo fatto che non si può camminare. Cioè, non si può correre. E' lento. Mentre, ragazzi, sul datapad ho trovato... Coggiù. Coggiù, insomma. Lo sto indicando. Ma che sono perfettamente... Abbiamo... Da quello l'ho trovato. Trova. Non l'ho trovato, ma ok. Bene, tra questa parte adesso abbiamo una pistola. Il Klem. Klem. Quindi lo si chiama. Il Kaken. E a questa parte ancora abbiamo un circuito di comunicazione. Carbonio, giusto? Carbonizzato, ok. Ah, no, carbonizzato. Abbiamo detto il Carbonio. Mentre di qui, alzio, abbiamo un bellissimo... Pupazzo. E allora, se non lo prendi, fa rumore. Ti chiedi subito di provare... E poi, adesso ciò si fa. Ok, la pistola. E allora... E allora... E allora... a lui non ricorda ci semplicemente la forma un po' di vigilanza è diventato noi perdiamo la vigilanza se non è un ricordo l'escrizione è un ricordo eterno è diventato è diventato l'agente dell'ordine e di sol l'escrizione ok sono leggermente confuso qui si intravede una mia impressione una struttura working si infatti rapporto conclusivo non è conclusivo ok rapporto colonia conclusivo soldato truppa assalto colonia 67229 ha segnalato delle confusioni del fuoco incrociato si tratta della verità l'intera truppa assalto a decisione del soldato 67229 è stata spazzata via soldato 67229 assegnazione alle icone al condizionamento su saturno fib retro c'è sia anche retrocessione a livello monotensione in effetti in effettivo adesso l'intera truppa che si tratta ogni volta che Night Hill glace, lo rivela solo abbiamo bisogno di correre bene ragazzi quindi di base questo versico ci si è mostrato nel terzo episodio della Nighting Wee e beh, grazie di dire che ci vedremo ragazzi nel prossimo episodio di Warframe quindi ciao a tutti, tutto è anche te robottino della polizia no, io un saluto, ciao a tutti